Siamo in quattro, abbiamo due sorelline più piccole, una è la Carlotta e una è la Camilla. L'unica cosa sulla quale forse sono anche cattivo, cattivo, severo, è che voglio che legano un'ora al giorno una cosa fondamentale. Ero il più piccolo prima di loro due e quindi si aveva un determinato tipo di attenzioni. Da quando sono arrivati loro due hanno responsabilizzato di più anche mai, questo penso che mi abbia aiutato un po' di più a maturare. Non mi sono ancora sobbarcato il peso delle responsabilità che è mio fratello e infatti per questo lo ammiro molto anche perché lui mi ha sempre, dopo mio papà penso che sia stato lui il mio secondo papà, lui è clemente con me quando magari mio papà non l'è stato e mi dava il suggerimento, il consiglio di cui avevo più bisogno in quel momento. Non vedo tanta complicità in tutte le famiglie o comunque fra fratelli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.